stai salato io non riuscivo a parlare con mia moglie non riuscivo a parlare con mia moglie come stai non sassi perché è via via ti giuro il mio padre mi manca non riuscivo a parlare con mia moglie quella ragazza la portai diceva santa magheri quella che vede che è bellissima quella è per la festa dove è apparuta? che è terretto? che la dice? ci ha parlato stavo la chiamava questa ragazza diceva quelli che hai tu dentro non sono i santoni che vengono e questi diavoli che c'è San Michele sotto pregalo guardalo e ci stavano dei signori mi dovete scusare che sto parlando un poco ha detto si si prego fai quello che vuoi guarda questo qua quello sotto a San Michele quello che c'è dentro tu prega San Michele che sei rai libera ti ha detto fai terra l'ha presa sotto le ascelle la rialzai guarda San Michele pregalo non partai Santona a dare i soldi a quelli che ti pregano i soldi questa ragazza sta in giro domani viene pure lei si girò si girò di fronte di me e si mi sa ridere ecco una buonanotte ciao senatore si girò verso di me io non ci facevo anche a parlare a parlare a me non lo so un sinaco non lo so io non riuscivo anche a parlare la cosa che avevo ho fatto quella cosa per questa ragazza e lei è libera quindi praticamente stavo a loro tenevano un corpo e San Michele c'era tua lui era presente lui il sindaco era presente sindaco è verità quando mi dici tu stessi dato che hai fatto che pure lui chi non ha parlato con moglie io pensavo io credevo che avesse bevuto siccome lui ha avviso a bere pensavo avesse bevuto ma che strano invece aveva appena fatto un miracolo quindi San Michele ha fatto l'esorcista? non lo so se l'ha fatto a San Michele cioè io non l'hai fatto sicuro e l'hai fatto a San Michele chi l'hai fatto sicuro? ieri ma non riuscivo a parlare con mia moglie col cellulare quello che avevi fatto il sindaco ha detto ma stia salato entra a grotta che è fritta non lo so non lo so non lo so